La parola del Vangelo. Si potrebbe anche dire la buona notizia nelle buone notizie. La parola del Vangelo vuol dire buone notizie. Quando studiamo la parola di Dio scopriamo che c'è una notizia bella e c'è una notizia brutta. La bella è se crediamo in Gesù siamo salvati. Se crediamo in Gesù come nostro Signore e Salvatore abbiamo il perdono, abbiamo nuova vita. Questa è la bella notizia. La brutta è se noi rifiutiamo di credere siamo già condannati e non abbiamo speranza senza di Gesù. In questo brano troviamo Giovanni. Pensate, Giovanni ha scritto il suo Vangelo circa trent'anni dopo che Matteo, Marco e Luca avevano scritto i loro Vangeli. I primi tre sono chiamati i Vangeli sinottici perché vanno avanti a pari passo, molto simili. Giovanni arriva trent'anni dopo, un testimonio ocolare, quello che è stato più vicino a Gesù, e lo Spirito di Dio guida lui nel rifare un altro Vangelo, non in contrasto a quello che gli altri hanno scritto, ma che mette la carne sugli ossi, che riempie tanti di quei buchi nei momenti importanti nella vita di Gesù sulla Terra. Un esempio, Matteo, Marco e Luca, quando parlano dell'ultima cena, lo sbrigano tra i quattro versetti. Giovanni ci dà quattro capitoli su quella sera insieme a Gesù nella sala di sopra. In questo Vangelo, quindi, troviamo il racconto dall'uomo più vicino a Corregg Gesù, il discepio più vicino a Gesù, l'unico discepolo che è rimasto alla croce quando hanno crocifisso Gesù. Quindi, quello che lui ha da dirci è di grande importanza. Anche il fatto che lui, quando scrive, inalza Gesù e rappresenta Gesù come figlio di Dio, divinità. Non parla di Gesù tanto come Messia, come fa Matteo, o come servo di Avea e l'Eterno, come fa Marco, o come uomo perfetto, come Luca fa per i Greci. Ma Giovanni presenta Gesù divino, figlio di Dio, e esprime il suo grande amore verso noi, peccatori. Nel versetto 1 di Giovanne vediamo l'eternità assoluta della parola. E qui troviamo il rapporto della parola con il tempo. Gesù è eterno. Nel principio era. E pensiamo quasi di leggere Genesi 1.1, dove dice nel principio Dio creò i cieli e la terra. Questo proprio principio parla di un tempo prima del tempo, prima di quello che noi vediamo oggi. Prima. Prima che ci fosse un orologio. Prima che ci fosse la terra. Prima. Da sempre. È anche una parola che viene usata per l'eternità. Infatti, in Salmo 90, leggiamo una frase che ci aiuta a capire questo molto. in Salmo 90, versetto 2. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. L'unico modo di spiegare l'eternità in un modo visuale non è una freccia che punta indietro e punta avanti. Perché arriviamo alla fine. L'unico modo di vederlo è un cerchio che non finisce mai. E questo è l'eternità. L'eternità. Nel principio era. Poi ho citato anche Primo Giovanni, è sempre dall'Apostolo Giovanni qui, dove lui parla dello stesso concetto. Primo Giovanni 1, la sua prima lettera, non il Vangelo, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi puri siete in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia si è completa. Quello che era dal principio, e questa parola principio, di nuovo, non parla di un punto in tempo, quando tutto è cominciato, Big Bang, per sé a più, parla dell'eternità, l'eternità. Nel principio la parola era con Dio. Era con Dio. E questa frase, con Dio, parla dell'intimità nella Trinità. Comunione intesa come anche l'autore della lettera agli ebrei, capitolo 1, dice Dio, dopo aver parlato anticamente, molte volte, in molte maniere, ai Padri, per mezzo dei profetti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose mediante il quale ha pure creato il mondo, i mondi. Egli, che è lo splendore della Sua gloria e l'impronta della Sua essenza, che sostiene tutte le cose con la parola della Sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. E qui vediamo Gesù dall'eternità e anche l'opera Sua oggi, che sostiene il mondo. Nel principio era Dio. Interessante, non l'avevo mai notato, ma nel testo greco qui dice Dio era la parola. Dio era la parola. Nel principio era Dio. La parola era Dio o Dio era la parola. Dio era la parola. Stiamo attenti perché c'è una sette che va in giro, che ha la sua Bibbia, traduzione del Nuovo Mondo, dove in questo versetto per non accettare quello che dice Dio, che la parola è Dio, hanno scritto e la parola era un Dio, un piccolo Dio. No, no, la parola è Dio. E' Dio. Interessante anche questa parola, parola, perché nella lingua ebraica è una parola che nel Vecchio Testamento aveva riferimento al Messia. Al Messia. Quindi, qui Giovanni, per i suoi lettori ebrei, sta parlando di Gesù, il Messia. Anche Platone, il grande filosofo, quando lui usava questa parola, parlava anche lui della seconda persona della Trinità, la parola, il Cristo. Essa era nel principio con Dio. Quindi, qui parla della Divinità di Cristo. Gesù è Dio. È Dio. Comunione e uguaglianza in la Trinità. Un Dio che si manifesta in tre persone. Gesù, il Figlio che si sottomette alla volontà del Padre, che si sottomette alla guida dello Spirito Santo nella sua vita, però rimane uguale al Padre. Io e il Padre siamo uno, dice Gesù. Poi troviamo il rapporto della parola con la natura. Con la natura. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. La parola di Dio è abbastanza chiara qui. Non lascia spazio per altre cose o come se Dio avesse fatto una cosa e poi da lì in modo naturale, in modo spontaneo, si sono sviluppate tutte le razze, tutte le cose. No, ha fatto Gesù. Ha fatto Gesù di tutto. E questo insegnamento viene ribadito in Colossesi dall'Apostolo Paolo dove dice in versetto 16 di capitolo 1 poiché in Lui, in Cristo, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Anche gli angeli, anche gli spiriti sono stati creati giusti, ubbidienti e molti di loro hanno seguito Satana nella sua ribellione. Ma all'inizio Dio li aveva creati anche questi spiriti. Troni, signorie, principati, potenze, anche l'autorità, il senso dell'autorità, il governo è qualcosa che ha voluto Dio. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, per la Sua gloria. Dice ma non mi sembra tanto oggi, ma un giorno sarà per la Sua gloria tutto quanto. Egli è prima di ogni cosa, stiamo attenti, questo non vuol dire che Lui è stato creato prima, come dice qualche setta, no. Lui è sopra ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Il fatto che il mondo va avanti, il fatto che i pianeti si muovono, il fatto che la mattina noi diciamo si alza il sole, sappiamo che non è il sole che si alza, però il fatto che tutto va avanti con la perfezione è dovuto a Gesù Cristo, al suo interessamento anche in noi. Purtroppo c'è il pensiero di tanti, anche la mia professoressa di ebraico che purtroppo non crede, ma lei dice ma no, ma Dio ha creato tutto, poi se n'è andato, adesso ha lasciato a noi tutto. No, non è vero. Gesù si interessa anche di noi, anche i fatti nella nostra vita. Ha creato tutto dal nulla. Qui troviamo questa frase in Genesi ex Nilo, dal nulla, dal nulla. Gesù ha creato tutto quello che c'è. Capisco che i nostri giovani a scuola si trovano davanti a un professore che sembra un sappiantone che dice no, no, c'è il Big Bang, c'è questo e quell'altro. Non è un sappiantone. Dice la parola che lo stolto ha detto nel corso non c'è Dio. Non c'è Dio. Gesù ha creato tutto da nulla. Poi versetti 4 e 5 troviamo il rapporto della parola di Dio con la vita. Con la vita. La luce data dalla parola. In lei, cioè la parola, era la vita. E la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno soprafatta. Dal peccato di Satana, dalla ribellione di Satana e tutti quelli che hanno seguito lui, siamo in una guerra. Una guerra tra la luce e le tenebre. Le forze maligne contro l'autorità di Dio. E qui parla di Gesù Cristo come la luce della vita. la luce parla di conoscenza, di sapienza, di capacità di illuminare. Tutto viene da Gesù. Infatti Giacomo dice nella sua lettera se qualcuno di voi manca di sapienza chiede a Dio. E poi c'è tutto un discorso anche lì della luce del tenebre. La luce. La luce dell'umanità. Colui che illumina l'umanità. Se non fosse per la luce della Messia, del Signore, ancora vivevamo nelle caverne come hanno fatto. all'inizio che non avevano le case, non che non erano intelligenti, cominciando con Adamo, un intelligente più di lui non esiste. Ma dopo quando hanno respinto la guida di Dio nella loro vita, l'uomo è diventato l'uomo della caverna. Non che Dio aveva destinato questo per lui, ma nella sua ribellione è diventato così. Isaia 9 parla di questa luce in riferimento al Messia, al Salvatore. Isaia 9, 1 e 2 il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelle che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. qui parla e poi dice tu moltiplichi il popolo tu l'illargisci una gran gioia e esso si rallegra in tua presenza come uno si rallegra al tempo dell'immietitura quando uno esulta quando spartisce il bottino. Quindi il Messia viene visto come la luce come che porta la luce e troviamo nelle professioni del Messia che parla della venuta della luce per il popolo che viveva nelle tenebre e le tenebre non l'hanno apprezzato non l'hanno soffocato non l'hanno soppresso soppresso come dice Gesù io edificherò la mia chiesa le porte dell'Addez non la potranno resistere certe volte noi pensiamo di stare dentro i cancelli dobbiamo difenderci noi contro loro non è vero noi seguaci di Gesù dobbiamo sfondare i cancelli di Satana questo è quello che dice Gesù le porte dell'Addez non potranno resistere il progresso del Vangelo e per ognuno di noi oggi che conosce Gesù come Signore Salvatore dobbiamo dire è vero è vero io nella mia carne io nella mia ribellione io nella mia vecchia vita a un certo momento non potevo più resistere alla chiamata di Dio nella mia vita al ravvedimento e fede in Cristo poi troviamo in versetti 6 a 9 il rapporto della parola con l'umanità Dio che fa il suo ingresso nella storia umana nel tempo e lo spazio degli uomini versetto 6 vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni e gli venne come testimoni per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui e gli stesso non era la luce ma venne per rendere testimonianza alla luce la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo un uomo mandato da Dio questa è la parola apostolo uno mandato sappiamo che noi siamo tutti chiamati in un certo senso a seguire Gesù a portare la parola in un certo senso siamo tutti mandati però c'è anche un senso preciso oggi non possiamo chiamarci apostoli è un titolo che apparteneva a solo quelli che avevano visto Gesù a quelli che avevano camminato con Gesù sono stati in contatto con lui ma qui Giovanni era mandato un apostolo mandato da Gesù un uomo di nome Giovanni Giovanni è la stessa parola del nome nel vecchio testamento Giona il profeta che vuol dire colomba pensiamo della colomba come immagine di pace anche Giovanni aveva il ministero come aveva Giona lui portava un messaggio di condanna ad una società corrotta però la parola di Dio ha recato un miracolo portando quella società a ravvedimento così Giovanni parla di Gesù del suo amore del suo sacrificio perché Dio possa di nuovo donarci la pace possiamo avere pace con Dio per me di Gesù Cristo nostro Signore Salvatore quindi quella parola colomba ha un significato Giovanni messaggero della pace messaggero della pace poi un testimone alla luce un testimone aveva visto Giovanni e poteva parlare aveva visto e testimoniano noi sappiamo nella nostra lingua la nostra parola martire viene da quella parola testimone perché purtroppo nei primi anni della Chiesa anche oggi purtroppo in alcune parti del mondo chi riconosce Gesù chi dice io sono seguaci di Gesù Cristo si mette in fila per il martirio in ucciso e così in quei tempi chi annunciava ai pagani ai romani che adoravano l'imperatore che credevano solo in Gesù seguivano solo Gesù adoravano solo Gesù veniva ucciso per la propria fede anche Giovanni ricordate come Giovanni Battista è morto aveva dichiarato il peccato di aduterio alla moglie convivente dell'Erode e lei ripicca nella rabbia del suo cuore quando ha avuto l'occasione di chiedere qualsiasi cosa a Erode tramite la figlia ha chiesto la testa di Giovanni Battista su un piatto quindi lei in ribellione del suo peccato contro le leggi di Dio ha chiesto la morte di Giovanni Battista quindi è morto testimone della luce un uomo precursore della luce così che quello che andava avanti l'araldo del re noi oggi non vediamo tanto questo concetto anche se quando annunciano un anno santo tutti i lavori per strada devono mettere tutto a posto si impegnano a fare le cose alla svelta l'araldo del re il messaggero del re lui andava avanti dicendo arriva il re raddrizzate quella strada brutta alzate i punti bassi abbassate i punti alti infatti troviamo nel vecchio testamento questo concetto che grida proprio queste parole di alzare la strada che va troppo giù in basso e abbassare la strada più altra per rendere il percorso che doveva fare il re una strada semplice e così faceva Giovanni Battista lui chiamava la gente al ravvedimento a ravvedersi a prepararsi per la venuta del messia araldo Giovanni Battista disse in Giovanni 1.20 io non sono il Cristo lui non pretendeva niente era solo la voce che gridava nel deserto preparate le vie del Signore questo personaggio Giovanni Battista è un personaggio incredibile pensate che è morto per aver predicato l'avvenuto di Gesù quando ha cominciato a radunare intorno a lui dei seguaci un giorno due di questi che stavano con Giovanni Battista vi dicono ma chi è quello laggiù e Giovanni dice ma quello è il Messia ciao Giovanni sono partiti ma lui era felice perché il suo ruolo non era di radunare dei seguaci il suo ruolo era di mandare le persone a Gesù anche questo è il nostro ruolo non è di radunare intorno a noi stessi dei seguaci ma di mandare le persone a Gesù come ha fatto Giovanni Battista un personaggio molto molto umile e poi da versetto 10 a 11 troviamo il rapporto della parola di Dio con il mondo egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui ma il mondo non l'ha conosciuto è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto la parola il creatore il Dio sovrano viene sulla terra per essere uno di noi per dare la sua vita in croce al nostro posto quando dice letteralmente quando lui è venuto nella sua terra la sua terra non solo il mondo perché era suo l'aveva creato lui ma pensiamo alla sua terra anche Israele l'ha tra il suo popolo quando Gesù è venuto nella sua terra non l'hanno accolto non l'hanno ricevuto e lui ha usato una parabola per illustrare questo del ricco fattore che aveva terre aveva delle persone che lavoravano per lui e ogni volta che lui mandava un ambasciatore a loro magari per raccogliere il frutto per portare i soldi al padrone l'ammazzavano invece a un certo momento dice il padrone io manderò mio figlio sicuramente avranno rispetto per lui e cosa hanno fatto l'hanno ucciso l'hanno ucciso Gesù non fu accettato nella sua terra poi aveva il diritto sopra il mondo lui era il creatore eppure non è stato ricevuto il suo rifiuto dal mondo che era venuto a salvare non capivano che lui era venuto per morire per loro e anche qui i suoi letteralmente è venuto alla sua gente la sua gente pensate alla sua gente la sua famiglia carne della sua carne e l'hanno rispinto troviamo un'immagine molto eloquente di questo in Isiaia 53 dove dice il versetto 3 disprezzato e abbandonato dagli uomini uomo di dolore familiare con la sofferenza pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna tuttavia erano le nostre malattie che gli portava erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato ma noi non ma noi lo ritenevamo colpito percorso da Dio e umiliato nell'uccidere Gesù pensavano di fare a Dio un favore di uccidere un bestemmiatore ma non capivano che quello che lui diceva di se stesso era vero fu respinto dai suoi poi in versetti 12 13 troviamo il rapporto della parola con il popolo di Israele e la sua famiglia viene identificata cosa chi è la famiglia di Gesù versetto 12 ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo ma sono nati da Dio il popolo ebraico religioso ma incredulo parenti carnale non spirituali di Gesù non l'hanno accettato infatti Romani 9 e Paolo scrivendo alla chiesa di Roma dove c'erano già ho letto nel terzo secolo quarto secolo dopo Cristo c'era una cinquantina di comunità di crenti messianici ebrei che si erano convertiti a Gesù ma Paolo scrivendo nel primo secolo parla di Israele dice non tutti i discendenti di Israele sono Israele né per il fatto di essere stirpe di Abramo sono tutti sono tutti figli di Abramo in altre parole non basta Dio io sono discendente di Abramo sto opposto no perché se tu non riconosci Gesù il Messia tuo non appartiene alla famiglia di Cristo della parola purtroppo oggi abbiamo persone intorno a noi magari con cui abbiamo Paolo di parlare di Gesù perché loro sono ebrei non credono Gesù ma il Vangelo veniva mandato nel mondo e dicevano tante volte prima agli ebrei e poi ai gentili e penso che noi dovremmo avere un peso se noi amiamo Gesù Cristo dobbiamo amare i parenti perduti dello suo Salvatore del popolo ebraico parla qui non solo della sua famiglia vera che l'aveva rispinto ma parla della sua famiglia vera il nuovo popolo noi vediamo la Chiesa questo popolo che ha il diritto di chiamarsi figli di Dio questo però il diritto vuol dire legale riconosciuto può dirlo e non è non è falso non è finto non è inventato è vero può chiamarsi figli di Dio ha l'autorità dato da Dio di chiamarsi figli di Dio purtroppo oggi molte persone sbagliano su questo è molto comune sentire la frase tanto siamo tutti figli di Dio non è vero siamo figli di Satra nasciamo nella famiglia sbagliata nasciamo in una famiglia disgraziata condannata lontana da Dio nemici di Dio ma Dio nella sua misericordia fa una passeggiata in quel quartiere infamato di persone disgraziate condannate e prende dice tu sei mio tu sei mio vieni ti do il mio nome non appartieni più a quella famiglia sei mio e qui dice Giovanni quelli che l'hanno ricevuto quelli che hanno creduto in Gesù Dio Padre ha dato il diritto di chiamarsi di diventare figli di Dio di chiamarsi figli di Dio il nostro diritto per la grazia di Dio tutti quelli che l'hanno ascoltato la parola infatti questo troviamo in Giovanni 5 24 dice Giovanni chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita tu dici ma io io vorrei avere questa fede Paolo dice la fede viene per l'udire tramite la parola di Cristo quindi tu dici vorrei avere questa fede mettiti davanti alla parola di Dio Signore ti voglio conoscere e lui risponderà tutti quelli che l'hanno ascoltato la parola tutti quelli che hanno creduto nel suo nome tutti quelli che sono nati da Dio nati da Dio Giovanni lo spiega più tardi in capitolo 3 nati dall'alto lo Spirito Santo che ci chiama al ravvedimento nati di nuovo nati dall'alto quindi è un popolo nato per la volontà di Dio quindi torniamo un attimo nella prima lettera di Giovanni dove Giovanni l'Apostolo spiega questo concetto in modo più chiaro primo Giovanni 2 29 se sapete che egli è giusto sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui noi non pratichiamo la giustizia per diventare credenti ma quando siamo nati dallo Spirito verrà spontaneo per noi a vivere secondo la legge di Dio nati non per letteralmente qui nella lingua greca dici per sangui plurali che noi non abbiamo in italiano cioè non importa chi è il tuo nonno tuo bisnonno tuo papà non importa tu non diventerai credente per quel motivo qui parlava agli ebrei non importa che Abramo è il tuo padre Isacco Giacobbe non importa che non sarete sarete salvati per quello questi non sono nati per la volontà della carne e qui parla del desiderio di una coppia di aver figli per desiderio della carne desiderio non siamo nati per il nostro desiderio di diventare figli di Dio né per il desiderio della mamma o papà o qualcun altro siamo nati di nuovo per la volontà di Dio punto e basta e poi non per la volontà dell'uomo e qui parla invece il concetto dell'adozione magari una coppia che non ha figli va ad un ofretrofio e prende un figlio dice tu sei il nostro prendi il nostro nome nessun umano ha deciso per un'altra persona di entrare nella famiglia di Dio ma sono nati da Dio da Dio è importante che noi non ci confondiamo perché c'è qualcuno che dice ma io per il momento non voglio credere per il momento dopo più avanti quando decido io lo farò non è la tua decisione e non lo farai ma purtroppo devo dire ho visto questo anche nella nostra chiesa di persone che dicono adesso no però dopo quando voglio io non hanno mai fatto perché la chiamata alla salvezza viene da Dio e quando lo Spirito Santo ti sta spingendo ti stia chiamando dice tu devi fare quel passo di fede noi non dobbiamo dire di no perché qua c'è un'offesa contro lo Spirito Santo quel peccato da cui non c'è perdono di rifiutare la chiamata alla salvezza siamo nati da Dio e quando Dio ci chiama quello è il momento di dire sì Gesù ti voglio seguire poi in versetto 14 c'è il rapporto della parola con l'umanità e con i suoi discepoli la gloria manifestata dalla parola che hanno visto i suoi in un corpo umano un corpo umano un corpo fisico un corpo come il nostro senza però la natura del peccato nel tempo e nello spazio umano sul nostro mondo sulla nostra pianeta ha vissuto Gesù e qui dice ha messo un tabernacolo ha messo sulla tenda vuol dire che ha vissuto in mezzo a noi ma sappiamo che una tenda è una cosa non molto permanente e così Gesù ha messo sulla sua tenda in mezzo a noi per 33 anni e mezzo oggi sta alla destra del Padre sempre col suo corpo umano glorificato che ci fa capire come anche noi un giorno saremo un cielo con corpi risuscitati corpi che possono mangiare corpi che possono passare per una porta senza aprirlo proprio come Gesù Gesù ha vissuto in mezzo a noi ma non separato da noi come nel Vecchio Testamento Dio era così santo che solo il sommo sacerdote e solo una volta all'anno poteva entrare nel luogo santissimo la parola ha preso la nostra carne la parola ha vissuto in mezzo a noi allo stesso tempo nella pienezza della sua divinità la pienezza e questo per noi è difficile capire in quel corpo umano quel corpo che subiva la fame la stanchezza la tristezza anche la paura in quel corpo umano volevo dire viveva ma vive oggi tutta la divinità tutta tutta qui su una serie di versetti di San Vida Giovanni anche se questa divinità fu velata come dice in filippese Gesù ha scelto non di mettere a parte la sua divinità ma di mettere a parte l'esercizio il suo diritto di dimostrare la sua gloria la sua potenza mentre viveva qui sulla terra questo è Gesù questa è la parola la domanda che ci dobbiamo chiedere e cosa ne facciamo crediamo veramente che Gesù è Dio crediamo veramente che la parola è venuta in mezzo a noi per morire al nostro posto crediamo veramente che Gesù è morto per noi per me personalmente ci credo se ci credo cambierà la mia vita ma non è qualcosa che noi guardiamo beh come sarà sarà vediamo no Gesù ci chiama a rispondere ci chiama a riceverlo ci chiama a riconoscerlo come il nostro Signore Salvatore e quindi ci chiama e noi dobbiamo rispondere ho paura per le persone che ascoltano che ascoltano ma è bello è tanto bello questo ascolta e non vedono mai la necessità di fare quel passo di fede perché alla fine si troveranno nel posto sbagliato e allo stesso momento mentre aspettano a fare questo passo di fede vivono attualmente dice Giovanni 3.36 vivono oggi sotto l'ira di Dio quindi vi prego non andate avanti in questo senso vediamo un po' come va a finire no conoscete la parola di Dio riconoscete Gesù quello che ha fatto per te fa un passo ricevilo come tuo Signore Salvatore credi in Lui ti cambierà la vita preghiamo prima di pregare mi sento veramente con ogni occhio chiuso mi sento da chiedere se c'è qualcuno stamattina che dice io ancora non ho fatto questo passo di fede ma voglio farlo oggi prego per me cioè qualcuno dice prega per me oggi io voglio ricevere Gesù come mio Signore Salvatore voglio essere sicuro che Lui è il mio Signore possa pregare per te padre la tua parola è chiara noi siamo sulla strada che ci porta alla condanna noi meritiamo a motivi del nostro peccato la tua condanna ma Gesù è venuto è stato qui sulla terra uno di noi per prendere il nostro posto sulla croce e Signore ti lodiamo ti ringraziamo per questo fatto ma tu ci chiami al ravvedimento tu ci chiami a riconoscerlo anche pubblicamente come nostro Signore Salvatore prego per le persone che ancora stanno fuori l'arca della salvezza non hanno fatto questo passo di fede che oggi stesso per loro possa essere il giorno della salvezza padre ti prego nel nome di Gesù Amen